Il Covid non se ne va, anzi a livello nazionale aumentano i contagi, scende l'età media, dei contagiati crescono e i ricoveri in terapia intensiva. Insomma l'attenzione va tenuta alta, l'aumento dei casi è una costante ormai da 5 settimane ed il numero dei contagi si sta avvicinando a quello dei mesi scorsi quando eravamo in piena pandemia. Che fare? Tenere alta la guardia perché se è vero che le strutture ospedaliere ora sono pronte per un'eventuale ondata di ritorno, secondo gli esperti non sarà così devastante come la prima anche se è probabile che un ritorno ci sarà, ma anche i cittadini devono fare la propria parte. Come? Rispettando le semplici regole di distanziamento fisico, basta davvero poco, un metro, un metro e mezzo, di igiene lavandosi le mani spesso ed indossando le mascherine quando non è possibile mantenere la distanza. Oggi la situazione è certo diversa, dal top della pandemia il sistema funziona decisamente meglio e si è in grado di processare più tamponi in meno tempo, ma è comunque importante sottolineare che il rapporto tra positivi e persone testate è comunque raddoppiato da inizio agosto ad oggi. In regione Lombardia infatti nelle ultime settimane di luglio i casi erano decisamente sotto i 100 a settimana, dalle prime settimane di agosto se ne registrano ogni settimana oltre 200 con punte di 273 nella settimana dal 3 al 9 agosto. All'ATS di Bergamo nell'ultima settimana si sono registrati 78 nuovi casi, 81 li ha registrati l'ATS di Brescia, 11 quella della montagna con due nuovi casi anche in comuni della Valle Camonica, Breno e D'Artogne. La Valle Camonica resta comunque un territorio abbastanza tranquillo, fatta eccezione per alcuni casi registrati negli ultimi giorni tra le persone che sono state tamponate al rientro dalle vacanze all'estero. Intanto dal lunedì 24 agosto in Lombardia partono i test sierologici su base volontaria per tutto il personale scolastico, docente e non docente. Si tratta di 206.687 persone. In poche ore 9.827 operatori hanno già prenotato il test. Lo screening gratuito è dunque rivolto a chi opera nei midi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e negli istituti di formazione professionale. La campagna rimane attiva fino a domenica 5 settembre con una possibile proroga fino al 12 settembre. Sono previste due modalità di svolgimento del programma di screening, mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna e che eseguiranno direttamente il test sierologico attraverso gli ambulatori dedicati sul territorio messi a disposizione dalle strutture pubbliche, oppure prenotando direttamente presso le ATS o le ASST. In base alle linee guida ministeriali, la campagna di screening viene effettuata mediante la somministrazione di un test rapido. I tempi per avere l'esito sono di norma entro 15 minuti, pertanto i cittadini dovranno attendere l'esito del test presso le sedi di prelievo. In caso di test sierologico negativo non dovranno fare niente, invece in caso di test positivo dovranno sottoporsi al tampone che verrà comunque fatto entro 48 ore.